Pensavo che ci sarà la sera Partita anche questa finale della 3.000 metri americana senior femmine Ed è la bensana che si mette in testa a cui la gara sembra essere un po' più tattica Nelle batterie precedenti abbiamo visto subito dei viti molto più veloci Allora menzana, Casier Ora è Scaltenico che si è portato in testa vanno in zona cambio sono tutte lì Menzana, Scaltenico, Scaltenico ora davanti poi la menzana Poi Casier Red Black, Robert T Cambio Scaltenico davanti a Casier Poi Savona in line, poi menzana Red Black Bellusco Ed eccole ancora effettuare i cambi con il passaggio a meno 10 Ed è ora menzana in testa Zona cambio Allora 1070 a fermarsi per cambio irregolare 1070 a fermarsi per cambio irregolare Ed è ora menzana Bellusco Scaltenico Fattinatori Savonesi E Casier E Casier Questa è la squadra rimasta in guarda Ed è ancora il bellusco in testa Eccolo in zona cambio Cambi Bellusco Menzana Casier Fattinatori Savonesi Scaltenico Ed eccole ancora in zona cambio Meno 6 al passaggio Ed è bellusco Casier Bellusco Casier Fattinatori Savonesi Scaltenico Menzana Ora è Casier Che passa davanti Ed eccole al cambio di meno 5 Casier Bellusco Bellusco Fattinatori Savonesi Scaltenico Valencia Menzana Ed eccole di nuovo in zona cambio Bellusco Andiamo a cambiare Bellusco Fattinatori Savonesi Casier Scaltenico Bellusco Bellusco Di nuovo in zona cambio E passaggio ai meno 3 Sono gli enti di cambi Bellusco Casier Bellusco Casier Sotto anche siena La menzana Cambio Cambio La maia Casier Davanti ai vaccinatori Savonesi Bellusco All'interno del trattadello Bellusco 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 in testa Con Casier Bellusco Casier Bellusco 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 Casier E passaggio Scaltenico Savonesi